Quando un materiale è degradato c'è l'obbligo di rimozione da parte del proprietario. Se è il pubblico ci pensa il pubblico, se è il privato ci pensa il privato, io non lo so. Quindi hanno l'obbligo, non è che posso. Io se no, siccome tanto la legge lo permette, posso far andare a fare un esposto alla Procura della Repubblica e mi indagheranno se qualcuno, esatto, e chi pade a pagare paga. Dopo la tempesta di vento, ora c'è la tempesta di rabbia dei residenti nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo ad Arezzo. Siamo in Pescaiola, via Concino Concini e non solo, si è vista arrivare persino sulle terrazze di casa pezzi di amianto sgretolato e portato lì dal vento durante la tempesta dello scorso 13 luglio. Il mio terrazzo è stato riempito di eterne, io sono qui e il tetto del magazzino del comune è lì, sta completamente scoperchiato, mi sono arrivati un sacco di pezzi sul mio terrazzo, ho chiamato io stesso il comune dopo mezz'ora che era finito tutto, mi hanno ringraziato, è venuto fuori il tipo, ha dato un'occhiata e gli ho detto guarda che lì il tetto non c'è più e fa niente, tanto poi ce la vedremo in qualche maniera ed è sparito. Si tratta di frammenti della copertura dello stabile che un tempo appunto ospitava il mercato ortofrutticolo. Un eco-mostro, come alcuni lo hanno definito, che non doveva essere più lì ormai da diversi anni. Dieci per la precisione, come ricordano gli stessi residenti. Il progetto della passata amministrazione era quello di realizzare in questa cubatura il polo digitale con i finanziamenti derivanti dal Pios e quindi dalla comunità europea. Nulla di tutto ciò e l'Eternit è rimasto lì. Il comune cambia colore ma non la musica e nonostante le segnalazioni di appena due mesi fa, ora i cittadini sono stanchi. No, siamo stanchi perché hanno venduto le case quando c'erano i progetti dicendo che c'era la rivalutazione urbanistica della zona, che questo sarebbe stato smantellato, il polo digitale che era già stato finanziato, non è che non era stato finanziato, poi improvvisamente i soldi sono andati a finire da un'altra parte che non si sa dove. Hanno costruito 180 appartamenti a ridosso di un mostro, di un mostro pericolosissimo per la salute di tutti. Io mi sono anche arrabbiata perché qui si manda avanti altre priorità. Quando qui ne va in gioco la salute di tutti i cittadini, bambini, ci sono degli asili, ci sono dei parchi gioco, degli impianti sportivi per bambini, di che cosa si parla qui? Addirittura hanno risposto l'altra mattina, io ho telefonato in comune, qualcuno ha risposto, abbastanza scocciato, perché ormai lo sapevano già. Di che cosa si parla? Io ho detto, ma scusi, ma perché non ci viene lei a abitare qui con i suoi figlioli invece che tenerci noi allora? Perché purtroppo tutte le amministrazioni, sia questa qui di ora, quella precedente, quella precedente ancora, tutti ricalcolano le stesse orme di non importanza, di dare meno e freghismo. Ma perché gli costa troppo? Sì, no, gli costa troppo e se non gli costa più di tanto non prendono iniziativa di fare lavori perché sicuramente c'è un da caparazza di per sé. Grazie a tutti.